Buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi non sono in edicola i quotidiani per la pausa di Ferragosto e vi proponiamo il nostro Tg del mattino. Il 19 agosto parte il fermo biologico tra Termoli e San Benedetto del Tronto. Le barche resteranno in porto fino al 24 settembre. Intanto torna prepotente il caro gasolio che sta creando seri problemi alla marineria. Sentiamo Andrea Nasillo. Dal 19 agosto fino al 24 settembre lungo l'Adriatico nel tratto centrale da San Benedetto a Termoli le barche resteranno in porto. Scatta il fermo biologico. In un momento sicuramente non facile per la marineria italiana. Le criticità sono sempre più evidenti torna prepotente un problema che rischia di far sprofondare il settore, il caro gasolio. Il prezzo di nuovo alle stelle anche a Termoli, ma al contento generale. Parte il fermo, ormai sono due anni che parte un po' più in ritardo rispetto agli altri compartimenti e per la prima volta forse dico per fortuna che è arrivato il fermo perché il gasolio è arrivato alle stelle e con questi prezzi non si fa reddito. Un po' si era abbassato il prezzo della nafta, poi di colpo questo aumento più del 30% del gasolio. Noi come associazione di categoria abbiamo fatto pure una denuncia al Ministero perché è spropositato questo aumento, ma d'altronde qualcuno dice che anche alla pompa, anche nei distributori sta succedendo la stessa cosa. Quindi andremo a fare il fermo biologico fino al 24 e la speranza è che quando rientriamo in mare questo prezzo del gasolio si abbassi. C'è di più, le norme comunitarie sono sempre più restrittive, il weekend non si può pescare, però da Termoli reclamano giustizia. Domenica scorsa c'è chi in Croazia pescava. Io ho mandato un tracciato, tutte le barche croate stavano in mare, quindi perché noi dobbiamo difendere il mare Adriatico, mentre dall'altra parte un paese che già sta nella comunità economica europea può fare quello che gli pare. Noi avevamo chiesto una deroga per il 15, quindi cercare poi di recuperare, il Ministero non ce l'ha data perché la comunità economica europea ci stoppa. E la Croazia, mi chiedo? Ancora furti a Isernia, alcuni malviventi hanno rotto i vetri di un'auto per rubare tutto quanto. C'era all'interno dal Comitato Centro Storico la richiesta all'amministrazione di intensificare i controlli. Sentiamo Enrico De Simone. Ancora furti a Isernia, a segnalare l'ultimo episodio è stato il Comitato Centro Storico tramite una nota sui social, il finestrino di un'auto rotto dai malviventi per prendere e portare via tutto quello che c'era dentro. Non stiamo parlando di una zona isolata della città, scrivono su Facebook dal Comitato, ma di una macchina parcheggiata nel Centro Storico in via occidentale. Crediamo, continuano, che il tasso di criminalità abbia raggiunto un livello tale da rendere necessari maggiori interventi. Chiediamo, hanno concluso, che i controlli vengano intensificati soprattutto nelle ore notturne e che torni in attività il servizio di vigilanza, richieste accolte dall'assessore con delega alla sicurezza cittadina Domenico Di Baggio, che ha chiarito che presto i vigilantes torneranno nel Centro Storico subito dopo la conclusione dell'iter burocratico di manifestazione di interesse per gli operatori specializzati nel settore sorveglianza, in attesa che la Polizia Municipale venga armata e che possa quindi procedere autonomamente con controlli notturni. Torna di attualità a Campobasso il tema delle scuole sicure, con particolare riferimento ai lavori per la realizzazione della scuola di Contrada-Mascione, lavori fermi da tempo. Il consigliere comunale dei Popolari per l'Italia, Salvatore Colla Giovanni, annuncia battaglia in aula affinché l'amministrazione comunale indichi le ragioni per le quali i lavori non vanno avanti. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il tema dell'edilizia scolastica tiene banco a Campobasso anche in piena estate. In particolare si torna a parlare dei lavori per la realizzazione della nuova scuola di Mascione, che nonostante gli annunci e le promesse restano ancora al palo tra le critiche del consigliere comunale dei Popolari per l'Italia, Salvatore Colla Giovanni. Questa amministrazione casca ogni volta che dà una data, è la scuola Mascione, dove in quattro anni abbiamo avuto più date di inizio lavoro che non sono mai iniziati e quindi il gruppo dei Popolari chiederà nel prossimo consiglio utile le dimissioni dell'assessore, che riteniamo opportuno che bisogna fare chiarezza, visto che il Movimento 5 Stelle negli anni passati sulle scuole ha fatto un cavallo di battaglia e oggi su una scuola Mascione non riesce a uscirne fuori, nonostante che la scuola ha un comitato, un gruppo di genitori, fa parte di una comunità, perciò la Giunta Battista volle portare avanti quel progetto. Oggi non si capisce perché si sono bloccati, vengono date nelle commissioni date discordanti, sono rimaste a marzo di due anni fa. Oggi invece è sempre tutto arrenato, non vorrei che anche l'assessore sia arrenato nel 15 agosto e voglio ricordare a chi ci ascolta che a breve ci saranno le elezioni comunali e non vorrei che è colpa dell'opposizione che non si è fatta a scuola Mascione. Su questo tema azzeremo un faro bello ampio per capire per quale motivo non si vuole continuare su un plesso che sta a cuore. Abbiamo ascoltato i comitati diverse volte ma non si vede la via della soluzione. A Ielsi festeggiamenti in onore di Sant'Anna, un resoconto di quei giorni all'insegna della mietitura e della trebbiatura, l'importanza nel tramandare alle giovani generazioni usanze e tradizioni del passato. Sentiamo Dalila Catenaro. I festeggiamenti in onore di Sant'Anna, momento clou con la sfilata delle traglie e dei carri. A Ielsi la tradizione è stata rievocata dapprima attraverso la mietitura e poi con la trebbiatura. Un momento che ha coinvolto anche tanti giovani che hanno ricordato l'importanza dei tempi passati ma anche degli strumenti utilizzati per lavorare il grano. Per l'occasione è stata rimessa in funzione anche un'antica trebbiatrice che veniva utilizzata diversi decenni fa. Proprio un gruppo di ragazzi ha voluto fare una sorpresa al nuovo comitato rispolverando questa antica trebbiatrice che veniva custodita all'interno di un capannone dalla famiglia Panzera. È stato un modo per assaporare quel gusto di un tempo lontano ed anche un'occasione per far comprendere ai giovanissimi il funzionamento di una macchina che ha rivoluzionato il mondo dell'agricoltura. C'è stato anche il ricordo di Zio Salvatore che ha raccontato la sua esperienza e per l'occasione di Sant'Anna si è rimesso all'opera alla soglia dei cent'anni. La giornata si è svolta grazie all'ausilio di tanti altri trebbiatori così che il grano donato potesse essere insaccato per la vendita e per il pagamento di parte dei festeggiamenti. La giornata si è conclusa con un prezzo comune nell'augurio che l'anno prossimo, l'annata, possa essere migliore. È tutto, termina qui il nostro Tg del mattino. Grazie per averci seguito e arrivederci. Buona giornata e vi diamo appuntamento al Tg delle 14 come sempre in diretta. Grazie.